L'embrea Cisi l'altra settimana con due argomenti fondamentali, gli scarichi fognari termali e la questione della revoca della liquidazione del levi. Sindaco Buono? Sì, abbiamo trattato questi argomenti che non sono stati ancora chiusi, perché per ottimizzare la questione degli scarichi termali nelle fogne, quindi è un problema che non interessa Barano, perché Barano notoriamente ha la condotta sottomarine che non è mai stata attivata, invece, poiché le altre condotte sono andate in sofferenza negli anni scorsi perché lo scarico termale coincide con lo scarico fognario, quindi c'è un sovraccarico delle strutture, stiamo cercando di regolamentare meglio l'accesso delle acque termali che notoriamente, beh, notoriamente no, gli addetti al lavoro non lo sanno, sono state equiparate ad acque domestiche, per cui possono essere scaricate negli scarichi fognari, però si sta pensando di farlo fare di notte per evitare, insomma, che vadano a sovraccaricare gli impianti esistenti, e tutto questo poi previsto in un regolamento che comunque non è stato approvato perché si deve ulteriormente limare. E per quanto riguarda l'altro argomento, la revoca della liquidazione, questo è un obiettivo che tutti i sindaci hanno, noi ci teniamo a che Levi ritorni in bonus, no, in bonus c'è già, ma esca dalla liquidazione per poter dare una struttura più efficiente perché ovviamente la liquidazione impone dei vincoli che sono incompatibili con una gestione ottimale di un servizio così importante come quello idrico. Noi ci auguriamo che nei prossimi mesi questo possa succedere in modo da dare una qualità maggiore all'azienda. In questo quanto ha contato l'apporto del dottor Ghirelli in questa strada che porta poi alla fuoriuscita della liquidazione? Io credo che il dottor Ghirelli abbia avuto un ruolo fondamentale perché noi respiriamo un'aria diversa. Quando andavamo alle assemblee del Cisi, non ti nascondo che veramente c'era da essere sconfortati, nonostante gli sforzi che anche agli altri devo comunque riconoscere, però effettivamente insomma al dottor Ghirelli devo riconoscere che oltre agli sforzi ci ha messo anche un savoir fare credo non comune nei liquidatori che perlomeno quelli che ho conosciuto io, insomma che ho conosciuto io, effettivamente ci ha messo una competenza che ha portato Levi ad andare in bonus, oggi è inattivo e ha tutte le peculiarità per poter uscire dalla liquidazione, ripeto, cosa fondamentale per poter guardare avanti con più ottimismo.